In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amo. Siano dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapienzie, ora Pronobis. Bentro e ritrovati carissimi fedeli per questo commento al Vangelo di domenica prossima. Nel Vetus Ordo leggeremo questo passo. Marco 8, 1, 9 In quei giorni, essendovi di nuovo gran folla, e non avendo essa da mangiare, Gesù chiamò i discepoli e disse, O pietà di questa folla, sono già tre giorni che stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando a casa di giù, mi verranno meno per via, e ce ne sono di quelli venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero, come si potrebbe qui in un deserto saziarli di pane? Egli domandò, quanti pani avete? Sette, gli risposero. Ordinò allora la folla di sedersi per terra, Poi, prendendo i sette pani e rese grazie, Gli spezzò e gli dava i suoi discepoli perché li distribuissero, Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, e benedetti anche quelli, Ordinò che li distribuissero. Mangiarono sazietà, e dei pezzi avanzati portarono via sette ceste. Ora, coloro che avevano mangiato erano circa quattromila, Poi li congedò. Ecco, carissimi fedeli, abbiamo ascoltato questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Probabilmente Gesù ne avrà realizzati più di uno, infatti abbiamo un altro racconto evangelico in cui i numeri cambiano. Abbiamo cinque pezzi di pane, anziché i sette di questo racconto, e dodici ceste avanzate, anziché le sette di questo racconto. Comunque sono differenze molto, molto lievi queste. L'importante è capire questo, che il Signore si preoccupa, non soltanto delle nostre esigenze spirituali, ma anche di quelle materiali. Il Signore è provvidente, Dio è provvidenza, e il Figlio di Dio incarnato lo è altrettanto. Infatti Gesù si commuove, prova compassione, dice il testo del Vangelo, per questa innumerevole folla, che lo circonda da tre giorni. Veramente queste persone, la folla, è ammirevole, perché in quei tre giorni ha pensato di più al valore delle parole spirituali di nostro Signore che alle necessità del corpo. Avevano con sé del cibo per due, forse tre giorni, ma poco di più. Il Signore questo lo sapeva, se ne preoccupa per loro. Ecco, e dice, ci sono persone che sono venute anche da lontano, come fanno a sostenere un viaggio di ritorno senza cibo? Veramente, il Signore si preoccupa di tutte le esigenze, di ogni persona. Egli vede quello che una persona necessita. Poi, li fa mettere a terra e dice ai discepoli quanti pani avete? Ne abbiamo sette. E successivamente quanti pesci avete? Abbiamo alcuni pesci. Ebbene, fateli sedere per terra e distribuite voi stessi questi sette pani e questi pochi pesci. Il Signore prima rende grazie, una preghiera di ringraziamento a Dio Padre, perché quelle cose provengono da Dio e quindi bisogna essere sempre grati al Padre, a Dio, per tutto ciò che abbiamo. Forse anche poco, forse anche scarso, dobbiamo ringraziare. E poi benedice, benedice il pane e dà questi sette pani ai discepoli, perché li distribuiscano. Alla fine quattromila persone riescono a saziarsi, anzi, ne avanzano sette ceste. E così anche dei pesciolini. Quanti pesciolini avete? Alcuni. Li rende grazie, li benedice, li distribuisce, li dà ai discepoli e i discepoli alla gente. Quattromila persone mangiano pane, pesce, abbondantemente. Quindi vedete che la differenza che c'è tra Gesù e i demagoghi, che sono i demagoghi, quelli che fanno i politici, diciamo, che fanno promesse di benessere, eccetera, di questa terra. Ecco, ogni bene materiale, vogliamo essere sazi anche di beni materiali? Cerchiamo anche questo. Non possiamo avere la sazietà materiale se non crediamo in Gesù, mandato dal Padre a benedire e moltiplicare i beni della terra. La terra sarà sterile se noi non abbiamo fede in nostro Signore. I pochi mezzi che abbiamo, perché sono veramente pochi, lo dicono anche i discepoli, abbiamo solo sette pani e pochi pesci. i pochi mezzi che ha l'umanità resteranno improduttivi se noi non crediamo più in Gesù e non li facciamo benedire dal Signore. Se la Chiesa non benedice più i campi, gli attrezzi da lavoro, se non benedice più le persone, se le persone non richiedono più la benedizione, se le persone non hanno più fede, il loro lavoro risulterà improduttivo, non servirà a nulla, raccoglieranno pochissimo e ci sarà la fame, la carestia e la miseria. L'umanità deve ritornare a credere a nostro Signore Gesù Cristo, a seguire la Sua parola financo nel deserto. Siamo già nel deserto. Che cosa è il deserto se non questa situazione terribile in cui le persone sono abbandonate a se stesse, quella che stiamo vivendo oggi dal punto di vista sociale, economico, politico e anche religioso. Siamo in un grande deserto, ma se noi non abbiamo il coraggio di seguire nel deserto Gesù per ascoltare, per tornare ad ascoltare, come se la nostra anima fosse una foresta vergine, ascoltare, come se fosse la prima volta che ascoltiamo il Vangelo, farlo penetrare nel nostro cuore, nella nostra vita e se non ci dimentichiamo un po' delle esigenze materiali per mettere al primo posto nostro Signore Gesù Cristo, quelle poche risorse che ancora ci rimangono resteranno sterili e non avremo niente per noi e per i nostri figli questo credo che sia il significato il numero sette che viene ripetuto per due volte è il numero della completezza della totalità della sazietà dell'abbondanza ecco se seguiamo il Signore non avremo solo ricchezze spirituali che già quello basterebbe perché se uno si salva l'anima è salvato per tutta l'eternità ma avremo anche abbastanza per vivere a sufficienza e anche di più su questa terra per noi e per tutti i nostri cari per le persone del nostro popolo sia lodato Gesù Cristo in nomine Patris e Fili e Spiritus Santi Amen